Centrale a tutt'unità, ripeto, centrale a tutt'unità, avanti centrale, la polfer comunica che i fuggitivi si sono buttati al treno in corsa, ricevuto, fateci vedere la posizione esatta, passo e chiudo, si qui poli 2, poli 2, i fuggitivi si stanno dirigendo a nord, zona polturno, ripeto, i fuggitivi si stanno dirigendo a nord, zona fiume polturno, passo Grazie a tutti So che ci tieni Non ce la facevo più a vivere in quello schifo E io questo lo posso pure capire, quello che non capisco è perché per una trapina gli sfondi il cranio con 5 abbassonate, perché? Non mi pento di averlo ucciso Questo ti consiglio di non dirlo al processo davanti al giudice Ci ha tolto la dignità Noi donne Col bastone Ero appena tornato E lì non c'era E lì non c'era Era da tempo che non succedeva Allora sono impazzito di rabbia Ho trovato il bastone Sono corso lì e l'ho aspettato E devo aspettare di più Dovevi aspettare di più Non ti saresti rovinata la tua vita E matto quella di tua moglie Qualsiasi cosa succeda non sarà mai peggio Mai peggio Cosa ci faranno ora? Suo marito era arrestato e accusato di omicidio Voleva solo difendermi E allora doveva denunciare Zatta, non ammazzarlo Ci hanno violentate per mesi Non è giusto Ci hanno Zatta, non è l'unico Lo volevo dire La prego La prego Il nostro corso L'unico Non è , non è Non è L'unico Ditto Grazie a tutti